Vai giù, vai giù, vai giù, Giovanni abbraccialo, Giovi, ti volevo anche dire una cosa, Giovanni cosa gli vuoi dire, facci sentire, Giovanni, vai Giovanni, come gli volevi dire, come lo volevi chiamare, come lo volevi dire, 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 andai, Giovanni, ma guarda, siamo venuti per lui e ti non guarda. Giovanni, come lo volevi dire, come lo volevi dire, come lo volevi dire, come lo volevi dire, Giovanni, come lo volevi dire, 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 come lo volevi tu giochi a taccante? sì centro che vuoi dire? centro campista giochi tu fai il centro campista quale squadra? centriano centriano? centriano vieni sì cosa hai fatto ieri? spiegaglielo ho fatto due 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 e tu che gli volevi dire? lui quello doveva fare domenica cinque pocheri? eh cinque il pocheri che avevi letto mi era piaciuto sì anche io grazie a te vai facciamo una foto?